Ciao a tutti ragazzi sono Marco e come vedete sono su una missione di Martin di rango 45 da 1 a 6 giocatori la missione si chiama con un po' di coca, è una missione che ho già registrato utilizzando la carabina speciale e comunque un po' di tattiche questa volta invece la riregistro per inserirla nella nuova playlist Fast Money e Pegasus quindi come dice il titolo ho creato questa playlist per fare facilmente soldi con tutte quelle missioni che si possono fare con i veicoli Pegasus in questo caso per chi lo avesse, comunque io in questo caso registro con Savage, mi chiamo Savage ho creato questa playlist proprio per fare soldi facilmente quando si avvicina in prossimità di qualche DLC e non si hanno i soldi e magari si ha o un Buzzard o un Savage perché il modo più veloce per fare soldi è non pagare le munizioni nelle missioni magari ci si impiega un pochino di meno quindi si guadagna leggermente di meno ma si risparmia sulle munizioni poi che i razzi non li paghiamo una di quelle missioni ci sono un paio di missioni che permettono già questo senza chiamare neanche la Pegasus che sono difensore e dannati laser poi tutto il resto, molte missioni, dico la verità, si possono fare con il Savage scusate, con un veicolo Pegasus in questo caso comunque dobbiamo distruggere le betoniere piene di droga perché Martin ce l'ha detto che è tagliato fuori dal mercato per questa organizzazione e quindi toglie il business è un modo anche abbastanza semplice di fare rp perché vedete che si fanno 25 rp uccisioni e senza rischiarsela più di tanto con un bel razzo gli arreppi arrivano in questo caso ho preso la betoniera e me ne vado a fare dall'altra parte e io non mi fermerò molto a far fuori i nemici cosa che ho già fatto con l'approccio chiamiamolo così normale dove mi sono divertito a farli fuori tutti con la carabina speciale la più vicina in questo momento è avanti a me e poi vado a prendermi quella con l'elicottero diciamo così dall'altro lato come vedete è abbastanza semplice giocarsela così ma ripeto molto molto economo ci sono missioni che veramente richiedono una quantità di soldi pazzesca per poterle finire e poi la vedremo più avanti quella missione la rinominerò posso anche dirla da adesso che comunque si tratta di contrazione dell'offerta poi potete vedere il video di come l'ho fatto originale diciamo così è veramente dispendiosa e abbastanza bastarda lo cacchio è sparato a posto dovrebbe essere andata no mi trolla e mo si però la missione è terminata andiamo a vedere il compenso in questo modo ripeto tutto guadagnonetto 7.700 non è tanto non abbiamo speso un centesimo gli rp per il rango 45 sono bassini io spero il video vi sia piaciuto ciao a tutti ragazzi alla prossima ciao a tutti ciao a tutti